Attiva l'addome, tieni i glutei, non mollare, flecchi, inspira, apri e espira, compatta il corpo, compatto, tutto quanto lavora, flecchi, inspira, apri e espira, inspira. Adesso vai avanti, inspira, torna su, apri e giù, inspira, avanti, inspira, le braccia sono un'estensione della schiena, inspira. Avanti, inspira, inspira, avanti, inspira. Compatta l'addome, inspira, avanti, inspira. Ultimo, su, state fermi al centro, sentite bene la schiena, apri le braccia e rilasciati. Chiudi gli occhi e senti la testa perpendicolare al coccige. La testa in linea retta perpendicolare al coccige.